SALUS A 28 Luglio 2010 Individualmente, può talvolta succedervi di sentire il vostro essere e espandersi ben oltre il corpo fisico, questa sensazione può essere così intensa da permettervi di collegarvi alla natura e comprenderne la musica. Sono il desiderio ed il convincimento, che è possibile, ad aprirvi questa porta. Di certo, la natura ama comunicare con voi e questo può avvenire dal livello di semplice sensazione a quello di contatto diretto a livello consapevole. Non esistono limiti a riguardo, e alcuni di voi sanno che ci sono esseri che, per esempio, possono comunicare con Madre Terra. Ogni cosa possiede un determinato grado di coscienza e non è raro, che alcune persone possono parlare con gli alberi e le piante. Non avete sentito dire che, quando chiesto con amore, si riceve una risposta? Altri, invece, che non hanno avuto esperienze del genere, o che non le ammettono, non solo non le capiscono, ma le considerano anche stupidaggini. Una volta ascesi, comprenderete perfettamente tutto ciò, e sarete in grado di comunicare con ogni forma di vita attorno a voi. Se riuscite ad ammettere di possedere tali poteri, cercate di usarli e, in breve tempo, sicuramente ne vedrete i risultati. Se i giardinieri sono dotati di pollice verde, non è forse perché amano il loro lavoro e amano le loro piante? Rifletteteci e comprenderete che ogni anima cerca l'amore ed è da esso elevata. Alcuni si sentono non amati e credono di essere separati da Dio, anche se così non è perché siete sempre avvolti nell'amore incondizionato. Il vostro modo di dire l'amore fa girare il mondo, non potrebbe essere più vero. L'amore è luce e sta elevando ogni anima, come pure Madre Terra. È la potente energia, che sta frantumando le vibrazioni inferiori, che non possono persistere in sua presenza. L'amore è l'unica cosa di cui dovete veramente preoccuparvi, e quanto più ne create insieme, tanto più velocemente andrete verso l'ascensione. Come spesso affermato, l'amore è il collante dell'universo, l'amore è Dio, l'amore è il creatore. La mancanza di amore permette alle tenebre di insinuarsi, provocando la separazione e, alla fine, anche il dissolversi della materia, si può, infatti, arrivare al punto in cui la materia, non riuscendo più a mantenere la forma, si disintegra. Se avete letto qualcosa riguardante i più bassi livelli astrali, sapete che in essi le vibrazioni sono talmente basse da essere quasi del tutto prive di luce. Più specificamente, la materia non è più in grado di mantenere la sua forma e tende a frantumarsi. Immaginate di essere delle anime cadute in tale livello a causa della propria mancanza di luce la loro esistenza è miserevole e si tratta veramente di un inferno, perché hanno permesso alla loro scintilla divina di diventare molto fievole. A quelli di voi che si preoccupano per la sorte di tali anime, possiamo affermare che degli esseri angelici attendono che esprimano il desiderio di ritrovare la luce. A partire da quel momento, è data loro ogni assistenza per risalire la ripida collina, cui sono confrontate, e ritrovare la via del ritorno. Ricordate sempre, carissimi, che nessun'anima è mai lasciata a dibattersi da sola e priva di guida, non importa quando abissale fu la sua caduta. Entrando nella fine dei tempi, ognuno ha qualche legame residuo da correggere, che si presenterà a voi in un preciso momento per essere purificato. Vi renderete conto di quando questo avviene e, se lo accettate per quello che è, vi sarà possibile trasmutarlo. Può trattarsi di pensieri assillanti, che pesano sulla coscienza, e che non vi sono più utili spediteli via con tanti ringraziamenti, spiegando loro che non hanno più posto nella nuova vita, che state costruendo. Infatti, guardando indietro, potreste scoprire che siete già un bel pio accento acuto cambiati. In fin dei conti, la vostra esistenza presente fu espressamente progettata per la vostra elevazione, prevedendo dei periodi di prova, in cui dovevate mostrare di aver lasciato alle spalle il richiamo delle vibrazioni più basse. Non desideriamo fare un quadro troppo desolante degli eventi, che stanno per accadere sulla Terra, ma è nostro dovere presentarvi le cose come sono. È ovvio, che non sempre possiamo fornirvi il quadro completo, perché talvolta è meglio non parlarne esplicitamente per non mettere in pericolo le persone coinvolte. Inoltre, con i nostri sistemi avanzati per la raccolta delle informazioni, siamo a conoscenza di molto di più di quanto conoscono gli oscuri. Non volendo metterli in guardia, siamo tenuti ad un certo grado di segretezza. Considerando anche che i nostri computer sono quantomai precisi nel prevedere il futuro, dobbiamo essere molto cauti su quanto lasciamo trappelare. I nostri alleati lo sanno e anche essi seguono questa linea di condotta, e non è accento acuto il caso di permettere che possano essere identificati. Di fatto, al momento ci sono alcune eventualità inquietanti che ci preoccupano, ma possiamo assicurarvi che le seguiamo attentamente. Interverremo quando ci sarà consentito e, come sempre, renderemo meno pregiudizievoli le azioni in grado minacciare la vostra sicurezza. Per gran parte della popolazione del pianeta, la vita sembrerà andare avanti più o meno come sempre. È nel quadro generale, che si possono osservare i cambiamenti, che stanno avvenendo, ma i vostri mezzi di informazione sono spesso resti ad accennarvi. Per esempio, il Sole sta mutando e questo fenomeno ha un grande impatto sulla Terra. Probabilmente, toccherà il punto più elevato della trasformazione molto presto e le vostre apparecchietture elettriche potrebbero risentirne. Inoltre, potenti energie colpiscono la Terra, mettendo eventualmente in pericolo i canali delle comunicazioni. Alla fine, i cambiamenti di tal tipo saranno tanto profondi che i sistemi elettrici, basati sulle vostre conoscenze attuali, non saranno più in grado di funzionare. Siate, comunque, certi che, in previsione di questi cambiamenti, vi forniremo fonti alternative di energia. Ovviamente, tutto ciò si ripercuoterà su quasi ogni tipo di comunicazione e trasporto da voi ad esso usato, ma quelli che vi offriremo saranno accolti con gioia perché del tutto ecologici e puliti. Gli aspetti positivi del Sole sono numerosi, perché convoglia verso di voi le enormi energie provenienti da fuori del Sistema Solare. Il ruolo più importante del Sole sarà quando si verificherà il potente allineamento con il Sole centrale del vostro Universo che, come sapete, corrisponderà al vostro solstizio invernale del 2012. Questo è il punto che servirà da trampolino per il Grande Balzo, che vi sospingerà nelle dimensioni superiori. questo evento segnerà, di fatto, la fine del vostro ciclo nella dualità e, a quel momento, sarete già stati preparati per tale elevazione. È ciò che state aspettando con tanta gioia, e che coronerà di gloria la vostra esistenza presente. Io sono il Siriano Salusa e vi benedico tutti per la vostra ferma determinazione nel sospingere l'umanità a livelli ancor più alti. Questo successo rende onore al vostro appassionato impegno di riportare le anime nell'amore e nella luce, in vista dell'Ascensione. Grazie, Salusa. Mike Quinsey Traduzione Costanza 2003 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.